www.feyyaz.tv Se non risponde... Problemi tuoi. Da adesso. Perché qua non piglia... Un minuto, Fran. Rispondi, mamma, ti prego. Oh, ma ho un minuto di tempo per salire. Ma figlia... Gli devo mandare un vocale. Sto sentando ora e spero parlo tutto bene. Ma è l'ultima chiamata che posso fare. Diciamo, le facce non prometto bene, insomma. Ciao, 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 pa. Sì, sì, me lo devo andare. Un bacione. Gliel'accomando. Occhio, stop. Telefoni spenti, eh. Spento. Telefoni in tasca. E mi seguite? Sì. A me sembra un abbastanza... Uno poliziotto buono e uno poliziotto cattivo. Andiamo? A me sembra un abbastanza... Grazie a tutti